Spazio ai nuovi artisti del fumetto e lingua italiana, Passaggi Festival della Saggistica ha lanciato il concorso gratuito che mette in paglio una vetrina prestigiosa e diversi riconoscimenti. L'opera vincitrice insieme a una selezione delle migliori graphic novel sarà poi esposta all'interno della rassegna libraria dedicata che ha ospitato tra gli altri Vittorio Giardino, Davide Reviati, Sara Colaone e Mara Cerri. L'obiettivo è di valorizzare questa arte che ha anche un tipo di scrittura molto particolare, mette insieme l'immagine con il testo e noi da qualche anno abbiamo dentro Passaggi Festival una rassegna curata in particolar modo da Giovanni Di Bari, una rassegna dedicata ai graphic novel che si chiama Passaggi fra le nuvole. E quindi ci sembrava giusto potenziare questo tipo di evento all'interno del festival e l'abbiamo fatto io penso in modo particolare perché ci siamo uniti alla lettura, alla settimanale del Corriere della Sera e quindi abbiamo ideato un concorso per graphic novel inedite, non ci sono limiti di età, di partecipazione di nessun tipo, per graphic novel inedite l'unico vincolo, l'unica condizione è che siano graphic novel di non fiction, cioè in qualche maniera raccontino la realtà, ecco, e si lega ovviamente al festival della saggistica. Il vincitore avrà un piccolo premio in denaro e inoltre vedrà pubblicate le tavole della graphic novel sulla lettura. Ci sarà anche una mostra a Fano durante il festival che esporrà al Pincio i lavori migliori che saranno selezionati da una giuria presieduta da una fumettista di fama che è Zuzu. Qual è la scadenza prevista? La scadenza è il 19 aprile, poi noi a metà maggio comunicheremo ai vincitori come è andata, se bene o male.